Il caso Irpini Ambiente approda nell'aula di Palazzo Caracciolo. Come noto, la provincia, che secondo le norme non ha più competenza sulla gestione del ciclo dei rifiuti, dovrà passare la società a lato. Buonopane però intende mantenere in vita parte della struttura per creare una multiservizi con l'obiettivo di gestire la depurazione industriale, non solo. Lo scontro con D'Alessio, presidente dell'Ato Rifiuti e consigliere provinciale, è sul come trasferire all'ambito la parte che si occupa dei rifiuti. Dopo una serie di battibecchi, si è deciso di insediare una commissione tra i due enti per una valutazione economica del valore della società. Il problema che c'è stato è quello di una decisione mai chiara da parte del lato. Da parte nostra nessun problema, oggi si è finalmente deliberato. Seguirà la nomina di un collegio peritale che valuterà il valore dei beni a trasferire nel più breve tempo possibile. Dopodiché sarà l'Ato che dovrà compiere questo percorso di carattere amministrativo per la costituzione di un aniuco. Qual è stata la reazione dei sindacati? In realtà erano presenti, non hanno ovviamente partecipato alla discussione, so che si sono anche visti con il presidente dell'Ato. In realtà poi il tema vero è questo, i sindacati proprio in questa vicenda non hanno nulla da temere. Qualunque sarà la soluzione, il personale è salvaguardato con il trasferimento dei cantieri. Grazie a tutti.